ciao come stai? stai bene? tutto a posto ma fate preoccupare mi risulta tutto a posto salve buon pomoian grazie mamma mia come sei? buon pomoian mochina sorpresa secondo te ciao come on come on come on come on come on come on come stai? hai rim suit pedestale mi hai prendito il telefano pomoian come on ii qui Si, si? Poi se sbagliato. Poi se sbagliato, c'era bevara paura. Che la bevara? Poi, si dà bevara? Che davanze? Come calore? Si non ha i novitati, la macchina che aspettano… Allora, a me la portai, la sorpresa perché…